Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City in apertura all'emergenza sanitaria. L'agenzia del farmaco ha decretato la vaccinazione mista solo a coloro che hanno ricevuto la prima dose di AstraZeneca, ma De Luca non ci sta e attacca nuovamente Figliuolo. Spazio poi alla cronaca, arrestate due persone per l'omicidio scelso avvenuto a Castellammare, ancora cronaca a Torre del Greco, in manette un 43enne accusato di aver abusato e maltrattato la figlia. Ci occupiamo poi di sanità, come annunciato dalla direzione dell'ASL, riapre finalmente domani il pronto soccorso dell'ospedale Marisca di Torre del Greco. In chiusura lo sport raggiunto l'accordo tra l'amministrazione e la società per la gestione dello stadio Liguori. Ne abbiamo parlato con l'assessore Giuseppe Speranza, questo ed altro. Guardiamo i servizi. Nuove regole sui vaccini. De Luca attacca Figliuolo. L'Agenzia Italiana del Farmaco approva la vaccinazione mista per gli under 60 che abbiano ricevuto una prima dose di AstraZeneca, ma le regioni continuano ad andare in ordine sparso. Chi si adegua alle indicazioni è chi continua a dire no al mix di vaccini, chi sospende i richiami con i farmaci a mRNA al posto di AstraZeneca finché non avrà garanzie su ulteriori forniture e chi lascia la possibilità di scegliere se avere o meno la seconda dose con il farmaco anglosvedese, anche se si hanno meno di 60 anni. Insomma, i territori continuano a non avere una linea comune anche dopo l'ordinanza del Ministero della Salute che ha dato indicazioni perentorie, ribadite anche ieri dal Ministro Roberto Speranza, sull'utilizzo di AstraZeneca e aprono un nuovo fronte. Con i vaccini a vettore virale ormai marginali servono più dosi di Pfizer e Moderna per non rallentare la campagna e raggiungere l'immunità di Greggia a settembre. Tante le regioni che continuano a prendere decisioni autonome, fra queste la campagna dove il Presidente De Luca ha pubblicato una nota con dichiarazioni critiche sulle ultime decisioni del Governo. È indispensabile parlare con una voce sola, commenta. Cessino le comunicazioni quotidiane del commissario Covid, che va ricondotto a una silenziosa funzione tecnico-logistica. Cessino le esternazioni di esponenti di diversi organismi nazionali. Si affidi la comunicazione medico-scientifica al solo Ministero della Salute, suggerisce il Governatore, nella persona del Direttore Generale della Prevenzione, così come avviene in ogni paese civile. In particolare De Luca fa notare che non è stato detto nulla riguardo a una possibile terza dose, in futuro, per chi ha ricevuto due vaccini diversi. Lo stesso studio inglese, che avrebbe mostrato la validità del mix di vaccini, secondo il Governatore, sarebbe stato effettuato su una fascia di popolazione troppo ridotta. De Luca spiega poi le linee guida stabilite per la Campania. Ai nuovi vaccinati non sarà somministrato AstraZeneca al di sotto dei 60 anni. Rispetto al vaccino Johnson & Johnson, la posizione del Ministero non è definita in modo chiaro e vincolante, pertanto tale vaccino non sarà somministrato sotto i 60 anni. Prosegue la vaccinazione di massa con Pfizer e Moderna. A chi ha fatto la prima dose di AstraZeneca si dovrà somministrare la seconda dose AstraZeneca solo sopra i 60 anni. Sotto i 60 anni si dovrà fare il richiamo solo con vaccini Pfizer o Moderna. In conclusione, la Campania richiede per l'ennesima volta e sollicita la fornitura aggiuntiva di vaccini Pfizer e Moderna, anche in relazione alla popolazione studentisca da vaccinare. Su questa base ci si dovrà impegnare a completare quanto prima possibile la campagna di vaccinazione e immunizzazione di tutta la nostra popolazione, anche a fronte del diffondersi di nuove varianti Covid. Questa mattina i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare messa dall'ufficio GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di un 57enne e di un 44enne, entrambi liberi, gravemente iniziati dall'omicidio di Scienzo Pietro, ucciso nell'androne del cortile della propria abitazione, con 11 colpi di arma da fuoco, esplosi da una pistola a calibro 9 in Vicopace di Castellammare di Stabia il 18 novembre 2006. L'ordienno provvedimento trae spunto dall'arresto di Rapicano Pasquale, operato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata il 6 febbraio 2020, in esecuzione di un'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, con riferimento alla sentenza con la quale in data 28 novembre 2019 ha condannato proprio il Rapicano Pasquale alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi 6, poiché è responsabile dell'omicidio scelso. L'attività investigativa sviluppata da gennaio 2020 a novembre 2020 dai carabinieri del Nucleo Investigativo del gruppo di Torre Annunziata ed integrata da interseccazioni telefoniche, servizi di osservazione controllo e pedinamento, non chiede le dichiarazioni di quattro collaboratori di giustizia, ha consentito di far luce sull'esatta dinamica dell'omicidio, perpetrato con particolare feroce premeditazione, accertando che i due arrestati avevano decretato la morte di scelso Pietro per il tradimento determinatosi con il suo passaggio nelle fila del clan rivale degli Omobono Scarpa, per conto del quale stava gestendo lo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere centro antico di Castellammare di Stabbia. Le indagini hanno permesso di ricostruire le fasi in cui il gruppo di fuoco composto da Rapicano Pasquale, guerriero Vincenzo poi suicidatosi nel carcere di Benevento nell'anno 2017 e Sansone Esposito Antonino avevano seguito la vittima studiando nei movimenti, le frequentazioni e gli orari di ritorno presso la propria abitazione, individuando insieme ai mandanti le strategie per recuperare le armi utilizzate per l'omicidio, per consegnare al materiale esecutore e per occultare la termine dell'azione di fuoco. L'omicidio di Scelzo Pietro, alias Onasone, avvenuto proprio nel centro storico di Castellammare ed attinente ad una fase di guerra tra clan estremamente violenta e caratterizzata da numerosi eccellenti delitti, integrava la finalità mafiosa di affermare il predominio del clan d'Alessandro nel territorio di Castellammare di Stabbia ed il suo pieno controllo delle relative piazze di spaccio a scapito del carrivale Homo Bono Scarpa. Avrebbe abusato della figlia, oggi adolescente, da quando aveva dieci anni. È la terribile storia che si cella dietro l'arresto avvenuto nel pomeriggio di ieri a Torre del Greco, di un uomo di 43 anni, accusato di violenza sessuale aggravata e maltrattamenti in famiglia. Ad eseguire l'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa dal CIP di Torre Annunziata su richiesta della procura, sono stati i carabinieri della stazione capoluogo di Torre del Greco, insieme ai colleghi della sezione operativa della compagnia. Tutto è partito da una denuncia presentata dalla madre della ragazza. Le delicate indagini, spiegano in una nota il procuratore della Repubblica di Torre Annunziata, Nunzio Fraiasso, hanno permesso di ricostruire un allarmante quadro familiare, fatto di continue violenze e soprusi, in cui l'indagato avrebbe iniziato ad abusare sessualmente della figlia, ora adolescente, da quando la stessa aveva appena dieci anni. Dopo le formalità di rito, il 43enne è stato portato nel carcere napoletano di Polgioreale, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Riaprirà domani il pronto soccorso dell'ospedale Maresca, come precedentemente annunciato dalla Direzione Sanitaria dell'Asla Napoli 3 Sud, ai microfoni di TV City. Le attività riprenderanno a partire dalle 8 di domani mattina. Dopo il completamento dell'iter procedurale conclusosi nel pomeriggio di ieri, si sono determinate le condizioni tecniche ed organizzative per la ripresa delle attività di pronto soccorso medico-chirurgico generale, come si legge nella nota inviata dalla Direzione Sanitaria ai responsabili dei reparti, per definire l'organizzazione dei turni di lavoro. La Direzione Strategica, Asla Napoli 3 Sud, fanno sapere dall'ufficio stampa, ha provveduto alla riorganizzazione degli spazi interni e delle funzioni ospedaliere in precedenza modificate. per far fronte all'emergenza coronavirus, in modo da favorire la ripresa delle attività di pronto soccorso. Non solo, il reparto è stato anche oggetto di una ristrutturazione mirata all'attivazione di sei posti letto di terapia subintensiva. Il pronto soccorso fu dismesso lo scorso 15 ottobre a seguito della trasformazione dell'ospedale torrese in Covid Hospital, con una dotazione di 26 posti letto per pazienti a bassa media intensità. A seguito dei lavori presso il blocco operatorio del terzo piano del vecchio padiglione, a partire dal 6 giugno scorso, sono riprese le attività chirurgiche con la disponibilità di due sale operatorie. Un ulteriore passo verso il superamento delle criticità imposte dalla pandemia, che ha obbligato l'esecuzione degli interventi chirurgici presso la sola sala operatoria correlata alle attività di gastroenterologia. Una buona notizia per l'utenza di Torre del Greco e dei comuni vicini, costretta alla perigrinazio tra ospedali in caso di urgenze o emergenze. Il ripristino delle attività, tuttavia, è solo il primo passo verso un potenziamento della struttura sanitaria. Un rilancio atteso da anni dal territorio, dopo battaglie e mobilitazioni a tutti i livelli. Finalmente si è raggiunto un accordo fra l'amministrazione comunale e la Turris. Cosa comporta? Comporta che da oggi la società Turris è affidataria in convenzione dello stadio. Praticamente tutte quelle perplessità che fino a qualche giorno fa allignavano in città, da oggi possiamo dire di aver messo un punto di partenza per un rapporto sicuramente di collaborazione che c'era, però non era stato ancora sucellato, sarei dire. Sono appena reduce da questo momento con i dirigenti dell'ufficio sport che mi sento di ringraziare in prima persona per il lavoro che ha svolto. Il dottor Gennaro Russo è stato di una precisione e di una puntualità che oserei dire va presa ad esempio. Ripeto e sottolineo, ha fatto un lavoro che ha scritto in pochi giorni cose che solitamente ci vogliono mesi e mesi e non anni. Ringrazio anche il sindaco per aver sollecitato più volte questo momento. Quello che mi resta di augurare alla città, buon divertimento con una grande turris. Quindi il Liguori è al sicuro? Lo era sempre stato al sicuro, soltanto che fino a ieri a gestire la struttura era l'amministrazione comunale con tutte le difficoltà che non sto qui a raccontare e oggi la società turisti si occuperà della cura e della gestione della struttura. La Convenzione è per un anno e ci stiamo organizzando già per il bando di gara per sei anni che poi sarà affidato e chi vincerà la gara. Grazie a tutti.